Radio Radicale, siamo col professor Renato Brunetta al termine della conferenza stampa del centro-destra qui al Senato sulle proposte che avete presentato, che presenterete al Governo in vista del voto di mercoledì. Allora, come giudica le risorse che sono state stanziate per il secondo decreto sul coronavirus? Quanto si potrebbe stanziare e in che cosa pensate di aver visto giusto rispetto a quello che si è detto nei giorni scorsi? Noi abbiamo visto giusto spiegando fin dall'inizio che c'erano due emergenze, quella sanitaria e quella economica e fin dall'inizio il centro-destra, noi di Forza Italia, abbiamo specificato che bisognava affrontarle tutte e due insieme ovviamente a partire da quella sanitaria come in parte si sta già facendo un po' caoticamente ma si sta già facendo e affrontare in parallelo quella economica perché quella economica rischia poi di avere uno prolungamento nel tempo molto più difficile e molto più tragico dal punto di vista dell'economia di quella sanitaria. Per questa ragione noi abbiamo fin dall'inizio affermato la nostra disponibilità a collaborare con il Governo, a individuare la forza politica, istituzionale, parlamentare per interlocuire con l'Europa e per ragionare con le categorie, con i rappresentanti delle categorie sociali, economiche, i sindacati e così via per trovare le risposte giuste nei tempi giusti. Finora questo non è avvenuto. Speriamo che possa avvenire. Ieri abbiamo lavorato per un documento unitario che parte da un primo punto, un presupposto che è quello di considerare come risorse da mettere in campo quanto l'Italia nel 2019 ha, tra virgolette, come dire, accantonato rispetto alle tasse e rispetto alla spesa, il cosiddetto avanzo primario. Un punto 1,7 di PIL, circa 30 miliardi di euro. E quanto serve, servirebbe, è servito nel passato per tenere sotto controllo il debito, il rapporto debito-PIL. Oggi noi pensiamo che questa quantità, che è il lavoro degli italiani, e quanto gli italiani hanno accumulato per tenere sotto controllo la propria finanza pubblica, in questo momento vada nella stessa dimensione destinato alle due emergenze, all'emergenza sanitaria e all'emergenza economica, di pari passo, coinvolgendo ovviamente l'Europa per l'emergenza, per poi, dopo l'emergenza, ma partendo come riflessione da subito, ragionare sulla crescita, sugli investimenti, su anche una nuova forma di governo, una nuova compagine di governo, e nuove regole in Europa, perché quelle che abbiamo visto funzionare dalla crisi di Lehman Brothers ad oggi non ci sono mai piaciute, le abbiamo considerate come insufficienti. Ecco, servirebbe un whatever takes, come quello di Draghi, il 2012 luglio, 26 luglio del 2012 in quel di Londra, quando ha detto, come Presidente della Banca Centrale Europea, faremo di tutto. Ecco, ci vorrebbe un whatever takes europeo sull'economia reale, sulle regole europee, sul rilancio, sulla recovery, sul new deal, chiamiamolo come vogliamo, con una grande stagione di investimenti infrastrutturali, materiali, immateriali, di ricerca, una nuova Europa più solidale della crescita, dello sviluppo, della dignità, una nuova Europa, non l'Europa che ha paura, non l'Europa egoista, non l'Europa che blocca il nostro parmigiano alle frontiere, ma una nuova Europa. Ecco, noi lavoreremo per questo. Come serve un whatever takes in Italia? Tutto quello che serve, tutto quello che serve, anche a costo ovviamente di chiedere all'Europa di sospendere il fatto di stabilità, fiscal compact, six pack, two pack, perché non è più tempo di compiti a casa e di sangue, sudore e lacrime. Lei pensa che non è stato messo in campo tutto quello che lei ha definito come l'avanzo primario per una questione diciamo propagandistica, per dare l'impressione che si fanno più provvedimenti e quindi di dare la dimostrazione che il governo è pronto a tutto in qualsiasi momento e che sa... Io non faccio retropensieri, dico solo che la cifra è ridicola. All'inizio avevano detto due decimali, poi si sono resi conto 3 miliardi e 6, che era il ridicolo del ridicolo, poi li hanno raddoppiati 7 miliardi e mezzo, ma senza alcun criterio. Perché 7 miliardi e mezzo e non 8 miliardi e 3 o 11 miliardi e 4? Senza criterio. Noi invece, questo è il punto, il criterio l'abbiamo dato, abbiamo detto tutto quello che gli italiani hanno accumulato dalle loro tasse dedotte come dei servizi che hanno ricevuto e che nel passato era anche più rilevante, perché questo 1,7 nel passato era 2,3 fino a 4%, bene, tutto l'avanzo primario, che è la ricchezza degli italiani, che rimane, vada impiegato nella stessa entità per rispondere alle due emergenze. Quella sanitaria in primis che vuol dire assicurare a tutti la ospedalizzazione di emergenza, la ospedalizzazione per quanto riguarda i casi più gravi, quel 5, 6, 7% colpito da coronavirus e che ha problemi respiratori drammatici. Ecco, non si possa pensare che non ci siano i letti disponibili o le macchine disponibili per tenere in vita questi nostri concittadini. Ma l'altra emergenza è la stessa, è quella di tenere in vita le imprese, ma se un'impresa alberghiera, un ristorante, un'industria turistica, un'agenzia, un libro professionista non fattura più per un mese, due mesi, tre mesi, porta i libri in tribunale, chiude. Ecco, dobbiamo rispondere con la stessa determinazione, quindi con la liquidità bancaria, con il riferimento del pagamento dei mutui, con il riferimento del pagamento degli oneri fiscali, con il riferimento della rotamazione delle cartelle, cioè con tutto l'impianto di moratoria per quanto riguarda la parte fiscale e la parte bancaria, che tiene in vita un'impresa e dando alle imprese la liquidità necessaria per rimanere in vita, come l'ossigeno, per rimanere in vita durante i mesi della crisi. Dopo si dovrà ragionare, anzi pensandoci da subito, ma come dire, avendo tempi di medio periodo, a un grande piano di investimenti europei e italiani per far ripartire la domanda, perché in ogni caso noi avremo un buco di domanda, e cioè una caduta del reddito, i più ottimisti dicono meno uno, io temo meno due, meno tre, forse meno quattro, come dopo Lehman Brothers nel 2009, un buco di crescita del PIL. Questo buco va riempito con domanda pubblica, con investimenti pubblici che servono anche a rendere il nostro paese e il nostro continente più forti e nel campo infrastrutturale, materiale e materiale e nel campo soprattutto della ricerca, la ricerca sanitaria, perché non può essere che il mondo moderno sia in balia dell'ultimo virus che decide, bontà sua, di fare una mutazione genetica e mettere in ginocchio l'intera umanità. Ecco, questo non è possibile, la ricerca scientifica deve dare delle risposte immediate anche a questo. Ringrazio come sempre, grazie al professor Renato Brunetta di Forza Italia. Grazie a voi.